Oggi abbiamo premiato quattro progetti, quattro aziende e progetti di mobilità ciclistica nell'ambito del progetto Transition Cities che è finanziato da Climate Kick che ci hanno trasmesso un'energia pazzesca rispetto al potenziale di questo mezzo e al potenziale di coinvolgimento, l'iniziativa di mobilità sostenibile e sono perfettamente allineati con il mandato della Climate Kick che vuole portare innovazione sul territorio italiano e contemporaneamente adempiere la lotta ai cambiamenti climatici, allineati perché portano idee innovative, innovative nella tecnologia, innovative nel modello di business e soprattutto coinvolgenti e aperte verso la popolazione, quindi contemporaneamente lavorano sugli aspetti tecnologici ma anche sugli aspetti di coinvolgimento dell'utente, di partecipazione, quindi favorendo un'adozione sempre più larga ed entusiastica di soluzioni di mobilità sostenibile che speriamo di vedere qui a Modena sempre più numerose. Il progetto che abbiamo proposto è di realizzare una ciclofficina itinerante che è stata chiamata ciclofficina mobile urbana perché andrà a posizionarsi nei diversi punti strategici della mobilità ciclistica modenese per fare servizio sul campo ai ciclisti urbani che ne possono avere bisogno e raccogliere informazioni e sondaggi riguardo all'utilizzo che viene fatto della bicicletta da parte dei cittadini e quali possono essere le opinioni e le esigenze degli utenti riguardo al supporto alla loro mobilità sostenibile in bicicletta. La mia attività Egoe Bike ha promosso questo progetto che sostanzialmente è un progetto che vuole costruire una rete per il turismo in bicicletta modenese. In pratica cosa succede? Noi come Egoe Bike forniamo già il servizio di noleggio biciclette con la consegna a domicilio. Questo è un servizio che diamo a tutti gli hotel a ricettività in genere ma anche a quanti organizzano sul territorio eventi legati al mondo della bicicletta dove appunto c'è bisogno di avere una bicicletta a noleggio. Oltre a questo noi ci proponiamo come partner per la realizzazione insieme a operatori turistici sia italiani che stranieri la progettazione e l'organizzazione di vere e proprie tour o vacanze in bicicletta nel nostro territorio. Pensate insomma da partire dal Panaro passando dal Panaro voglio dire si può partire addirittura dal Po venendo dal Sec Panaro fino su addirittura gli Appennini con le biciclette pedalate assistite che è uno dei mezzi che noi proponiamo come noleggio. In pratica fare rete, mettere insieme un pochino tutti gli attori quindi anche tutte le eccellenze modenesi quindi portando poi i turisti ad assaggiare quelle che sono tutte le nostre eccellenze magari in un caseificio per il parmigiano e poi tutti gli altri dicendo come aceto balsamico tradizionale come cantine per il Lambrusco oltre a tutte le eccellenze invece della Motor Valley piuttosto che anche le eccellenze artistiche che abbiamo culturali in un ultimo sito dell'UNESCO del centro di Modena. Il nostro progetto vuole creare un polo di interscambio per fare in modo che molte consegne che al momento sono motorizzate possano subire un cambiamento ed essere portate a pedali quello che vogliamo fare è fare in modo che da questo polo ciclo logistico si possano consegnare, possano farsi consegne last mile e first mile quindi consegnare tutto ciò che entra in centro ritirare tutto quello che viene dal centro per poi portarlo fuori. Ci attendiamo di realizzare questo progetto di creare nuovi posti di lavoro di creare nuove sinergie con i corrieri tradizionali e soprattutto ci attendiamo di tagliare moltissimo le emissioni di CO2 che al momento sono molto molto elevate a Modena.